L'Aquila si ferma, l'Aquila ricorda, l'Aquila si stringe nel dolore e nella memoria di quella maledetta notte di sette anni fa che ne cambiò per sempre la storia. A partire da questa sera quando alle 22 la città si ritroverà davanti il tribunale in via 20 settembre per una sorta di via crucis del dolore che si concluderà in piazza Duomo. A mezzanotte sarà data lettura dei nomi delle 309 vittime cui seguirà una messa nella chiesa di San Giuseppe Artigiano ed una veglia che si proterrà fino alle 3.32 quando la campana della chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuta delle anime sante, rintoccherà per 309 volte. Domani una staffetta commemorativa toccherà i principali comuni e le frazioni dell'Aquila colpite dal sisma mentre nel capoluogo alle 9.30 nella chiesa del cimitero si svolgerà una celebrazione eucaristica in memoria dei 309 angeli cui seguirà alle 11.30 presso l'auditorium del parco un concerto della fanfara della Polizia di Stato. Nel pomeriggio poi una corsa non competitiva che partirà dalla caserma della finanza a Coppito che si concluderà a San Bernardino dove alle 18 le principali istituzioni musicali locali ed abruzzesi renderanno omaggio alle vittime del terremoto con le musiche di Mozart.